Eliana Amaradei, moranese doc, vince il World Salsa Summit 2020, tenutosi a Miami, Florida, nella specialità Amater Ladies Salsa Solo Showcase, prestigiosa competizione intercontinentale. La giovane e affermata ballerina calabrese porta a casa anche un ottimo secondo posto nella disciplina Racing Star Semi Professional Ladies Salsa Solo Showcase. Già lo scorso anno, ha dichiarato la Amaradei, rientrai in Italia con un bellissimo ricordo di questa fantastica esperienza e una grande soddisfazione per essere riuscita a raggiungere i miei obiettivi. Quest'anno poi è stato davvero indescrivibile, il risultato mi gratifica enormemente e allo stesso tempo mi stimola a lavorare con sempre maggiore impegno e determinazione, consapevole che solo attraverso lo studio, il sacrificio, la passione, il prezioso ruolo dei maestri Mario e Carla Serra, la vicinanza dell'intero gruppo di amici e compagni di viaggio che credono in me, il costante sostegno della mia famiglia, posso continuare a sognare e magari con un pizzico di fortuna realizzare i miei progetti. Il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, così commenta la notizia. Ci sono vittorie come quella della concittadina neocampionessa mondiale di Amateur Ladies Salsa Solo Showcase e Liana Maradei che fanno battere forte il cuore e che oltre alla soddisfazione personale per l'atletà costituiscono un grande orgoglio per l'Italia e nella fattispecie per la nostra comunità che ritrova anche nei valori dello sport e in occasioni come queste il suo spirito di unità e di appartenenza. Siamo fieri pertanto di salutare la nostra fuoriclasse di veicolare mediante questo ennesimo trionfo l'immagine del nostro borgo.